wow è stato davvero divertente devo guardare il prossimo episodio wow era completamente diverso e più divertente non riesco a credere quanto unico fosse rispetto all'episodio di prima mi piace tra i preferiti è iscritto bella a tutti ragazzi io sono favij e benvenuti a questo nuovo video su slender wow cavolo che paura cosa più di paio lo ha fatto prima segnalato più di paio un copyright su tutti quei giochi nessun altro ci può giocare oh mio dio hai una sedia più di paio deve saperlo come mai tutti sti brofist questo sì che è divertente oh mio dio sei troppo sexy originale brafist sei un figo ti amo anche se so che è una ragazza che cazzate il mio amico è molto più divertente di più di paio salve sono super cod player 1995 meglio di più di paio e giocherò a call of duty cosa sei un grande lo so